Musica Bentornati, la battaglia contro la plastica batte bandiera europea e assume valore istituzionale. È arrivata infatti nei giorni scorsi il via libera formale del Consiglio dell'UE alla direttiva che vieta dal 2021 l'uso degli oggetti in plastica monouso. Addio quindi a piatti, posate e cannucce, ma il bando vale anche ad esempio per le aste per palloncini e bastoncini cotonati. Attesa da tempo, la direttiva ha conosciuto il suo approdo in Consiglio. L'Europa ha così indicato la strada verso una società plastic free. Altri dati significativi confermano la direzione intrapresa dalle istituzioni europee. Gli stati membri si sono impegnati infatti anche a raggiungere la raccolta delle bottiglie di plastica del 90% entro il 2029, mentre le stesse bottiglie di plastica dovranno avere un contenuto riciclato di almeno il 25% entro il 2025 e di almeno il 30% entro il 2030. E gli italiani? Secondo un sondaggio di Coldiretti sulla base dei dati aerobarometro, il 27% di loro ha già evitato di acquistare oggetti di plastica monouso come piatti, bicchieri o posate, rifiuti che mettono in pericolo non solo gli animali nel mare ma anche quelli in fattoria. Il 68% degli italiani ritiene poi opportuno il pagamento di un sovrapprezzo per questi prodotti, per favorire un comportamento virtuoso in fatto di sostenibilità ambientale. In occasione dell'evento Il valore della Circular Economy a Milano, svoltosi all'Università di Milano e Bicocca, organizzato dal Centro di Economia e Regolazione dei Servizi dell'Industria del Settore Pubblico, sono stati presentati i risultati del Contatore Ambientale, strumento sviluppato da Conai per la raccolta differenziata in città. Vediamo. Milano tra le capitali d'Europa anche in tema di innovazione ambientale. Sono stati infatti presentati i risultati degli effetti prodotti dalla raccolta differenziata in città, ottenuti attraverso il Contatore Ambientale, strumento di misurazione sviluppato da Conai. Alcuni dati relativi al 2018 segnano senza mezzi termini quanto fa bene la raccolta, grazie alla quale sono stati risparmiati ad esempio circa 350.000 tonnellate di anidride carbonica, 3 milioni di metri cubi d'acqua, quasi 2.000 megawatt di energia elettrica. Lo stesso quantitativo consente un recupero equivalente di riprodotti, 14 milioni di felpe, 114 milioni di nuove bottiglie, 3 milioni di chiavi inglesi, 224.000 panchine, 123.000 armadi. Il Contatore, introdotto a Milano, da Comune, Amat, A2 Ambiente, AMSA e realizzato da Conai in collaborazione con Eambiente, di fatto quantifica i benefici ambientali della raccolta differenziata e di tutte le attività di riciclo e recupero dei rifiuti. Spiega Giorgio Cogliolo, presidente di Conai, grazie al Contatore ambientale siamo oggi in grado di dire ai cittadini che anche grazie al loro contributo un efficiente servizio di raccolta differenziata e avvio e riciclo dei materiali ha permesso in un anno di risparmiare 145.000 tonnellate di materia primavergine con notevoli benefici ambientali. Vogliamo che i cittadini siano incoraggiati a continuare nel loro sforzo di differenziare i rifiuti domestici e a cambiare la percezione di chi ha ancora dubbi sulla reale utilità dello sforzo. Chiude invece Marco Granelli, assessore alla mobilità e all'ambiente del Comune di Milano. E continuiamo ora a presentare le aziende premiate la settimana scorsa in occasione del Best Packaging 2019 per le migliori soluzioni di imballaggio immesse nel mercato. Coppa Italia e Nonnonanni. Il premio riguarda tutta la nostra scelta sulle vaschette ortofrutta dove i prodotti confezionati sono già al 100% di P&T riciclato quindi è una scelta che va incontro alla sostenibilità in quanto in un anno sono circa 16 milioni le vaschette che Coppa utilizza per confezionare quella parte di ortofrutta e non è sfusa. Abbiamo sempre creduto sulla sostenibilità, abbiamo investito molto un team di otto persone su questo tipo di progetto di un materiale completamente compostabile che non c'era in Italia e saremo i primi sui formaggi freschi a lanciare questo tipo di materiale molto innovativo sia dal punto di vista packaging primario che secondario cioè interno ed esterno al formaggio. Grazie per essere stati insieme a noi, arrivederci alla prossima settimana. Grazie per essere! Grazie per essere! Grazie a tutti.